Buonasera, buonasera, benvenuti alla consueto appuntamento con Terzo Tempo Live, il ripilogo della domenica calcistica. Ci occuperemo in modo particolare del campionato di Serie D Crollo Vastese, il sesto KO nelle ultime sette partite per la formazione di Colavito Furibondo, il presidente Franco Bolami che tra poco avremo in diretta telefonica. Avezzano Daurlo, l'unica abruzzese a vincere in questo turno 4-1 sul campo dell'Agnonese, prova di indubbio carattere del Pineto che malgrado l'inferiorità numerica, espulso esposito, nel primo tempo è riuscito a strappare un preziosissimo risultato di parità sul campo della Sangiustese. Ma diamo uno sguardo al quadro completo dei risultati, girone F, ventiquattresima giornata settima del girone di ritorno. Ad Agnone, Avizzano batte Agnonese 4-1, doppietta di Dos Santos. Castel Fidardo, l'Aquila 1-0, ricordiamo anche l'espulsione di Sieno dell'Aquila, dunque l'Aquila in dieci uomini per praticamente tutto il secondo tempo. A Fabriano San Marino batte Fabriano 3-1, Francavilla Recanatese batte Francavilla 3-0, Monticelli Vastese 3-1, Nero Stellati, Matelica 0-3, si è giocato al Barbati di Pescina, Alex Castrum di Giulianova, giocato ieri, Capobasso batte San Nicolò 4-2, Sangiustese Pineto 0-0, Vis Pesaro in rimonta sulla Iesina, 2-1 il verdetto finale. Vediamo la classifica con il Matelica che appunto la guida con 57 punti, la classifica del Girona F, più 4 sulla Vis Pesaro, dunque le distanze sono rimaste inalterate dopo questo turno di campionato, Vis Pesaro 53. L'Avezzano sale al terzo posto, davvero una giornata importante, molto propizia per la squadra di Federico Giampaolo Castelfinardo 41 e la Vastese che scivola dal terzo al quinto posto, Vastese con 40 punti. Ripetiamo, sesto K.O. nelle ultime sette partite, dunque dall'inizio del 2018 soltanto un successo in casa sulla Pineto. San Marino 38, l'Aquila e Francavilla 37, Campobasso e San Giustese 35, Pineto 34, San Nicolò e Iesina 25, Re Canatese 24, Agnonese 23, Monticelli 18, Fabriano 17, chiude la matricola di Pratola, Nerostellati con 8 punti all'attivo. Vediamo invece quello che è successo nel campionato di eccellenza, prima di aprire i collegamenti avremo in diretta telefonica proprio Franco Bolami, presidente della Vastese. Campionato di eccellenza, qui siamo alla 26esima giornata, nona del girone di ritorno, anche qui il risultato importante della Chieti che ha battuto nel big match di questo turno il Martinsicuro, era uno scontro diretto, terza contro seconda il Chieti, ha scavalcato il Martinsicuro, ha deciso Catalli nel secondo tempo. Alba Adriatica, Paterno 3 a 2, Amiternina, Montorio 4 a 1, Angolana Torrese 1 a 1, a Capistrello, Real Giulianova batte Capistrello 2 a 0, Chieti, Martinsicuro 1 a 0, Miglianico, Acqua e Sapone 3 a 1, Penne e Cupello 0 a 0, San Salvo, River, Chieti 4 a 3, Spoltore e San Muceto 2 a 1. La classifica, il Giulianova saldamente in testa, saldamente al comando con 8 punti di vantaggio sul Chieti che è la nuova vicecapolista, ma il Chieti era già stata vicecapolista del campionato fino a qualche settimana fa, dunque Giulianova 59, Chieti 51, Martinsicuro 49, Paterno 47, Spoltore 42, Alba Adriatica 39, Torrese 38, Capistrello 37, Angolana 36, San Buceto 35, Acqua e Sapone e Penne 32, Cupello 29, Montorio e Amiternina 25, Miglianico e River Chieti 20, dunque il Miglianico a gancio e River Chieti sconfitto a 4 a 3 a San Salvo e San Salvo sale a 18 punti, sempre ultimo però accorciato diciamo così le distanze da River Chieti soprattutto che oggi ha battuto nello scontro diretto, questi i risultati, questi i numeri del campionato di eccellenza, ma torniamo al torneo di Serie D, crollo vastese, non so se abbiamo l'opportunità di interloquire in diretta telefonica, lo chiedo a Roberto Chieti, sì c'è proprio Franco Bolami, Franco Bolami in diretta telefonica, buonasera Presidente. Buonasera a voi, buonasera. Ma insomma questo è un vero e proprio mistero, che cosa è successo alla vastese? È successo che non va, non va niente, è successo che l'ho sopportato fino a domenica scorsa, 7 partite sconditte e penso che a questo punto devo fare qualcosa che non volevo fare. Ho detto ai ragazzi da martedì blocco i stipendi, ho pagato il sesto mese, ne ho fatto mai mancare niente, però penso che non c'è risposta da loro. Adesso chi vuole giocare per la maglietta rimane, chi gioca per i soldi può andare a casa. Quindi i principali responsabili secondo il Presidente Bolami sono i giocatori, nulla da imputare all'allenatore? No, 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 guarda, l'anno scorso l'ho visto, ho cambiato, il risultato era uguale. Io penso che i giocatori stanno troppo comodi, si sono seduti, proprio seduti, oggi la dimostrazione, non hanno il carattere, non hanno voglia di vincere i poteri tre punti, ma a questo punto io ho detto ai ragazzi, chi ama la maglietta rimane, chi non ama se ne può andare a casa perché i sacrifici si fanno in due. Assolutamente, Presidente, capiamo insomma il suo stato d'animo, naturalmente... No, 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 Paolo, tu Massimo, per niente è arrabbiato, per niente è arrabbiato, perché può andare, si può perdere, si può vincere, il risultato è aperto a tutto, però su queste partite non giocare come giocava l'andata e non scendere in campo per sudare, c'è qualcosa che non quadra. Io non lo so che cosa c'è il sulto, lo devo scoprire, qualcosa già sto scoprendo e a presto uscirà fuori tutto quello che sto sentendo e sto vedendo in giro. Ecco, ma c'è unità di intenti, Presidente, perché è chiaro che ci sono tante domande dopo questo crollo, perché è un autentico crollo, sei sconfitto nelle ultime sette partite, c'è unità di intenti tra spogliatoio e guida tecnica? Ma non penso, penso che qualcuno sta facendo qualcosa che non mi piace, forse in settimana lo devo scoprire, perché già 20 giorni che stanno delle cose che non mi piacciono, però adesso non posso parlare perché non sono proprio pronto per parlare, adesso ho bloccato i stipendi, se qualcuno ha qualcosa da dire, gli ho detto di parlare con il direttore sportivo, se qualcuno non vuole rimanere se ne può andare a casa, tanto devo perdere con i miei ragazzi e meglio, e sono più contento di perdere con la squadra di donare. Presidente, se lei sta dicendo che sto scoprendo qualche cosa che adesso non posso dire, insomma dobbiamo arguire che si tratta di cose gravi. Non so se sono gravi, sto vedendo alcune cose che non mi piacciono, devo capire alcuni passaggi, datemi del tempo perché, ripeto, sono tre anni, sono due anni, pure l'anno scorso e quest'anno, non è nel colpo dell'allenatore, perché l'allenatore rimarrà allenatore della vasta e del finale del campionato, c'è qualcosa che non mi quadro. Devo capire alcuni passaggi, è impossibile sette partite, sei sconfitte, ma come maturate? Chissimo, parate e si può vincere, ma io penso che una squadra dopo cinque sconfitte e non rifare risultato positivo, c'è qualcosa che non mi quadra. Devo capire cos'è, ma l'ho scoperto a più pezzo perché già mi sono mosso da due o tre partite. Ho capito. Presidente, silenzio stampa da parte dei tesserati? Sì, nessuno parla, nessuno può parlare, perché veramente non c'è niente da dire. Cosa bisogna dire? Basta parlare perché qua più si parla, i fatti non si fanno. Non capito. Ma ha avuto comunque, insomma, si è confrontato oggi a fine partita con il suo allenatore, con la Vitto? No, 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 sono andato a casa, direttamente, mi vado a casa, mi rilasso, il direttore sportivo è andato dentro allo spogliatoio, ha confermato quello che ho detto io. Ah, ecco. Da martedì se qualcuno vuole andare a casa, se ne può andare. Dopo sei mesi, pagato stipendi, fare mancare niente, con anche anticipo di stipendi, penso che qualcosa non va bene. Lei che cosa si aspetta adesso dalla squadra, obiettivamente? Ma a martedì lo vedrò, non è chiusa a martedì, vedrò chi rimane e chi non rimane. Se qualcuno andrà via, tanto farò giocare i miei ragazzi, anche della riunione, perché almeno so che danno l'anima, so che sono dei ragazzi vastesi, perché veramente, abbiamo toccato il fondo oggi, toccato il fondo. Certo, Presidente, vabbè, però lei quando parla di blocco degli stipendi è chiaramente un provvedimento temporaneo. Sicuramente è temporaneo, non lo so, può essere un giorno, un mese, tre mesi, quattro mesi, dipende da loro. Vuole vedere una reazione, insomma, immediata questo? Sono sempre disponibili, sempre, sempre, da 3 anni, non ho fatto mai mancare niente a nessuno. Adesso voglio che loro danno qualcosa a noi, non a me, alla società, perché facciamo tanti sacrifici, facciamo, tanti. Certo, i tifosi erano presenti a Grottamare oggi, Presidente? Grandi tifosi, oggi 70 persone hanno contestato, ma sempre con l'eugazione, grazie a questi tifosi, anzi, devo dire ai giocatori, 5-6 anni fa, forse, non so cosa sarebbe successo, aver perso a Monticelli, invece hanno fatto un'eugazione lampante, devo dire grazie ai tifosi, ai veri tifosi. Ho capito, c'è stata sicuramente una contestazione però civile, ecco, questo è importante. Molto civile, mi sono fermato con i tifosi anche alla tua grilla adesso a parlare e loro sono arrabbiati, ma gli ho detto ragazzi sono più arrabbiati di voi. Benissimo, quindi blocco degli stipendi, silenzio, stampa e poi si vedrà quello che accadrà in settimana, insomma, questa è un po' la sintesi. Ah, sicuramente, sicuramente. Perfetto, Presidente, io la ringrazio perché è stato molto gentile, a caldo praticamente, possiamo dire così, dopo questa ennesima sconfitta. Ma guarda, non sono per niente arrabbiato, io ripeto, il nostro campionato... Beh, sicuramente non è raggiante, Presidente, no. Il nostro campionato l'abbiamo già vinto perché ci siamo quasi salvati, è questo obiettivo, però che una cosa è salvarsi, una cosa è andare a scendere in campo a Monticelli come in casa col Pesaro e fare quelle brutte figure, questa penso io. Anche perché adesso ci sarà Vastese, Vispesaro, sarebbe un'occasione quanto mai propizia, no? Massimo, lo ho detto sui giornali, giocando così possiamo parlare anche con gli amatori, lo scritto, possiamo parlare tranquillamente. No, l'aveva detto già una settimana fa, ricordo, quando ci siamo collegati con lei. Eh, l'ho detto, lo ripeto, è una squadra senza organizzazioni, ma non per colpa del mister, perché il mister non c'entra niente e rimarrà con noi, è colpa soltanto dei ragazzi. Beh, allora, sì, però, Presidente, scusi, lei ha detto organizzazione, allora non si può parlare di organizzazione. No, allora, l'organizzazione di ragazzi, perché il mister non c'entra niente, l'organizzazione di ragazzi, non c'hanno la voglia di ottimere, non c'hanno l'obiettivo, non c'hanno carattere. Oggi l'hanno dimostrato, Mondicelli, che ha giocato anche il mercoledì, stanchi, oggi ha corso più di noi, voleva i tre punti, l'hanno ottenuto, punto, questa è la realtà. Sì, sì, no, assolutamente, io mi sento in perfetta consonanza con lei, poi del resto chi meglio di lei, no, può sapere quello che sta, sta capitando, che sta accadendo a questa squadra. Tra l'altro, per il Monticelli, questa è una nota di natura statistica, è il primo successo interno dall'inizio del campionato. Eh beh, facciamo, 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 facciamo i miei fratelli. Va bene, Presidente, io la ringrazio, davvero grazie perché è stato chiaro, molto esaustivo. Grazie, buona serata a tutti. Grazie ancora alla Presidente della Bastese, Franco Bolami, insomma è stato molto chiaro, inequivocabile, il suo disappunto ai confronti della squadra, ripetiamo, sei sconfitte nelle ultime sette partite, da quando è cominciato il 2018, solo una vittoria contro il Pineto all'Aragona, e quindi sei sconfitte, soprattutto questa maturata oggi a Grottamare contro la penultima in classifica, che adesso ha fatto tre punti, comunque ha ottenuto tre punti importanti. Appunto il Monticelli ha fatto parecchio discutere, perché insomma la squadra si era pure portata in vantaggio, la Bastese con un gol di Leonetti, e poi il Monticelli ha avuto la forza di reagire, di capovolgere la situazione, addirittura andando a vincere per tre reti ad una, e si tratta del primo successo interno stagionale per la squadra di Stallone, che finora aveva vinto soltanto in una circostanza. Dunque una sconfitta, che speriamo non lasci strascichi, anche se il Presidente è stato molto chiaro, blocco degli stipendi e silenzio stampa, ora la palla passa, per così dire, alla squadra Bastese, che ospiterà nel prossimo turno la vice-pesaro, vice-capolista del Gironef. Dobbiamo parlare invece di una splendida realtà, quella della Vezzano, non che non lo sia la Bastese, però la Vezzano sta facendo molto bene, settimo risultato utile consecutivo, terza vittoria del 2018, quattro pareggi, c'è Gianni Paris, vero? Eccomi Massimo. Ecco qui Gianni Paris, allora intanto, insomma il risultato di oggi è stato fondamentale, perché la Vezzano sale al terzo posto, settimo risultato utile consecutivo, terza vittoria, ci si lamentava un po' per i troppi pareggi, però oggi davvero una prova autorevole sul campo dell'Agnonese. Oggi il titolo che farebbe un giornalista... Avezzano da urlo! No, dovrebbe essere questo, gli applauti di Agnone, perché quando la squadra è uscita dal campo tutti i tifosi del tifo organizzato dell'Agnonese hanno applaudito in maniera scrosciante la squadra dicendo che hanno fatto una prova straordinaria e che sarebbero stati contenti loro di avere una squadra così. E per lei è stata una goduria assoluta, diciamola tutte. Beh sì, ho avuto un orgasmo, è tanta roba Massimo perché... Scusami, insomma, che ho... No, ma ci sta, ci sta, ma in senso sportivo è chiaro. Sì, 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 è chiaro, è chiaro. Il bello del calcio è anche questo, insomma, che la vita poi si racchiude tutto e quindi... Beh, insomma, è chiaro che vincere 4-1, a parte il risultato debordante, ma è stata una prestazione che ha convinto in toto per gli interi 90 minuti, mi pare di capire. Sì, sì, oggi va bene. Primo tempo si è concluso sul 3-0 per noi. Dos Santos oggi non ha avuto proprio tregua della difesa molisana. Abbiamo giocato in maniera concreta, cinica ed è quella poi... All'inizio della partita ho detto alla squadra che non dovevamo pensare al successo perché il successo sarebbe arrivato. E questa è una tecnica di marketing di chi vende se stesso e quindi anche nel calcio a volte una squadra vende se stessa. E quindi la squadra è scesa in campo senza l'assillo del successo, ha giocato in maniera serena, dovevamo chiaramente fare il risultato, lo sapevamo. Diciamo leggerezza mentale, no? Sì, 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 è andata esattamente così. Quindi ho chiesto questo alla squadra, ho ricordato che chiaramente c'è l'obiettivo terzo posto. Questo terzo posto oggi è arrivato dopo tutte queste giornate e quindi sono stra-felice. Sì, anche perché bisogna a questo punto difenderlo, questo terzo posto, perché insomma la rispesano a 10 punti di vantaggio. La vuoi sapere la verità? Infatti io voglio un titolo per questa trasmissione. Noi adesso guardiamo al Pesaro. Addirittura. Noi adesso guardiamo praticamente alla Vispesaro, quindi mancano ancora 30 punti, quindi tutto è lecito. Provarci non cambia niente perché tra l'altro in questo giro di ritorno la squadra che dà continuità arriva fino alla fine dove vuole. Questo è vero. Perché ci sono troppi punti che si perdono. Quindi bisogna rivalutare questi quattro pareggi ottenuti nelle prime sette partite del giro di ritorno. Sì, nell'ottica del bicchiere mezzo pieno sì, senz'altro. Assolutamente. Presidente, Giampaolo quindi sta facendo non bene di più. Federico, io quando l'ho preso posso sempre ricordare una cosa che ormai tanti stanno a memoria. Eravamo terz'ultimi e io sapevo che sarebbe andata come sta andando adesso. Quindi da terz'ultimi avevo la considerazione massima del mister perché avevo capito il valore dell'uomo. Figuriamo oggi che siamo terzi. Quindi ci tengo a ripeterlo perché è bello dirlo oggi da presidente dell'Avezzano. Siamo terzi, al terzo posto. Assolutamente. E questo è un obiettivo davvero molto importante, strameritato per l'Avezzano. 42 punti, la bispesano a 11 punti di vantaggio. Però nel calcio ha ragione il presidente Paris. Mai direi mai. La continuità è fondamentale. La continuità dei risultati restano ancora. Quante giornate? Siamo alla ventiquattresima. 13 giornate alla fine. Comunque sì, stai facendo un po' di confusione con i numeri. Credo che abbiamo soltanto 9 punti di distacco dalla pesano. Avezzano 42, Bispesaro 53. Ah, 53. Scusa, presidente. Ci sono ancora 10 giornate da giocare. Sì, sì. Ancora 10 giornate e 11 punti da recuperare. Fissiamo questo altro obiettivo allora. Beh, sì. Ci proviamo perché tra l'altro il posto privato nei play-off ti consente anche di giocare in casa la semifinale e quindi o secondo o terzo posto si giocherebbe in casa. È chiaro che oggi è prematuro perché dopo queste giornate di campionato per la prima volta siamo terzi da soli in gradatoria. Però oggi devo dire che insomma c'è stata una prova corale della squadra. personalità, carattere, mentalità vincente. I giocatori hanno dato il meglio di sé. Tutti i reparti hanno risposto come dovevano. Squadra consapevole della sua forza. Potremmo sintetizzare così? Sì, è una squadra che praticamente vuole fare del calcio una bellezza nel gioco, nell'espressività e nell'idea insomma che ha la società di tornare dove il Presidente vuole. Perfetto Presidente. Ah, poi a fine partita naturalmente ci sono stati festeggiamenti però non mi ha mandato il video. Non ci ha mandato il video. No, adesso te lo mando perché è un po' pesante. Ah, ho capito. Allora lo manderemo in onda alle 21 a trasmissione sui gol della Serie D con Paolo Durante e Tiziano Lauducci. Va bene, grazie. Grazie Presidente, grazie e complimenti. Complimenti alla Presidente Ravezzano, Gianni Paris, complimenti alla squadra, Federico Giampaolo, complimenti a Dos Santos, autore di una doppietta. Davvero oggi era immarcabile l'ex giocatore della Chieti e della Triestina. Dobbiamo fare un ultimo collegamento per questo terzo tempo live quasi interamente dedicato al campionato di Serie D con il Pineto. Il Pineto è l'altra squadra che ha sorriso in questa domenica nerissima in questo weekend nerissimo per le formazioni abruzzesi. Ha vinto solo l'Avezzano e ha pareggiato il Pineto sul campo della San Giustese. Tra l'altro il Pineto in dieci uomini nel primo tempo è stato espulso esposito. Il Pineto ha dimostrato grandissima personalità. Non era facile su un campo in fido per antonomasia come quello della San Giustese. Non so se c'è la possibilità di interloquire in diretta telefonica con il DS Roberto Giammarino. Ci proviamo? Sì, Massimo. Eccoci qua. Io ho fatto questa premessa. Gran prova di carattere, Roberto. Anche se poi non avete rischiato nulla, malgrado l'inferiorità. Poco nulla, insomma. No, abbiamo fatto una gara di contenimento. Abbiamo colpito una traversa. Penso che in undici forse l'avremmo giocata diversamente questa partita. Purtroppo è stata una decisione arbitrale molto affrettata e secondo me molto molto sbagliata. Capita anche questo. Non ci dice bene nulla, però è stata una prova di carattere per noi, è come una vittoria. Esatto, anche perché dopo la vittoria sulla Iesina, la vittoria sulla Iesina era stata importante perché la squadra veniva da tre sconfitte consecutive e questa era una sorta di prova del nove. Poi tra l'altro in inferiorità numerica per gran parte della contesa, insomma non si può che essere soddisfatti, Roberto, per tanti motivi. Sì, sì, assolutamente. Siamo soddisfatti. La squadra è come era prima. Ma c'è con calcio. Ha lasciato su tutti i palloni ed è quello che ci ha contraddistinto nella prima parte del campionato. Questa è la squadra che conosciamo. Peccato perché ce la potevamo giocare alla pari con la San Giustese. Era una partita, secondo me, che potevamo fare nostra. Però poi il calcio... Purtroppo ci sono anche queste situazioni. Ripeto, mi è sembrata molto, molto eccessiva l'espulsione di Esposito. Assolutamente. Poi noi abbiamo ascoltato anche il vicepresidente che ringraziamo ancora perché è stato sempre molto chiaro nei collegamenti. Diceva proprio Gerardo Di Luca che anche a lui è sembrata piuttosto eccessiva la decisione dell'arbitro di espellere Esposito. Però insomma è andata bene lo stesso. Avete dimostrato grande carattere su un campo non facile. Adesso il da Pineto affronterà il Monticelli che ha conseguito la seconda vittoria in campionato battendo la Vastese in rimonta. Tra l'altro la prima davanti al pubblico amico, tra virgolette, perché si è giocato a Grotta Mare. Insomma, incontrate una squadra in... diciamo in... non dico che è in disarmo perché prima era in disarmo. È una buona squadra, in pieno recupero. Sì, sì, no. Il Monticelli è una squadra a prendere con le mole perché ha già pareggiato a San Marino, ha pareggiato con il Materica, ha battuto la Vastese, quindi stanno facendo questa parte di campionato, stanno facendo bene. Però è chiaro che Pineto là dovrà fare la partita e dobbiamo essere concentrati. Anche se mancherà qualcuno, ma la nostra è ampia e chi giocherà sicuramente non può rinviaggiare le assenze. Anche Marianeschi sarà squalificato domenica perché è scivolato, è scivolato e poco dopo l'espulsione di Esposito è scivolato, è franato addosso a un altro giocatore ed è stato ammonito. E in quell'occasione si è fatto pure male perché scivolando ha preso una botta al quadricibile. Era effettivamente un arbitro molto molto discutibile quello che abbiamo avuto, però sperando in tempi migliori e in situazioni migliori, adesso noi dobbiamo solo rimboccare le mani e pensare a pedalare. Quando è la fine alzeremo la testa e vedremo quello che abbiamo combinato. Oggi ha rigiocato il Gpilli, un 99 che ha già fatto un esordio con la Vastese, un ragazzino che esce dal nostro settore giovanile. E tanto per non perdere l'abitudine, dai! Sì, bisogna guardare anche a queste cose perché dobbiamo essere anche bravi nel buttare dentro qualche ragazzo, ha rigiocato capo casa. Dobbiamo almeno in questo momento avere tutta la disponibilità anche per questi ragazzi che devono sicuramente dimostrare il proprio valore. Quindi questa è un'altra fase da fare. Assolutamente. In compenso rientreranno domenica prossima Fiumara e Cercelluti. Io ti ringrazio Roberto. Grazie a voi e buona serata. Grazie ancora Roberto Giammarino, DS del Pineto. Abbiamo commentato questo 0-0 sul campo della San Giustese in dieci uomini del Pineto per gran parte del match per l'espulsione di Esposito nel primo tempo, espulsione affrettata da parte del direttore di gara. Vediamo quello che sta succedendo in Serie B perché il Brescia è in vantaggio nel secondo posticipo della giornata. Domani si giocherà un posticipo sì ma in Serie A di fronte Lazio e Verona alle 20.45. Ha segnato, ha sbloccato il punteggio al minuto 19. Dunque sette minuti fa il difensore, l'esperto difensore Gastaldello. Brescia 1, Ternana 0. Il Frosinone nel primo posticipo di oggi ha prevalso 2-0 sull'Ascoli, i gol di Dionisi e di Daniel Ciofani. Per quanto riguarda invece la Serie A, nell'anticipo delle 12.30 Juventus batte Torino 1-0, Juventus in trasferta, gol di Alex Sandro. Benevento nel pomeriggio, Benevento Crotone 3-2 per il Crotone aveva momentaneamente pareggiato i conti. Ahmad Ben Ali, ex Pescara. Bologna batte Sassuolo 2-1, Napoli 1, Spal 0. Alle 18 appena cominciata sta per cominciare a Taranta Fiorentina alle 20.45. Il primo posticipo di fronte Milan e Sampdoria. Domani come detto Dianzi di fronte alle 20.45. Lazio e Verona a chiudere il programma della giornata nel massimo campionato. Torniamo in Serie B, facciamo un passo a ritroso nel tempo. Ieri lo 0-0 scialbo di Chiamari tra Entella e Pescara è comunque un punto che consente ai biancazzurri di muovere. La classifica continua però il digiuno in fatto di gol di Pettinari che non va a segno dall'8 dicembre. Soprattutto la squadra ha realizzato soltanto due reti nelle ultime cinque partite. La sintesi. Pareggio nella noia in realtà perfettamente in linea col grigio pomeriggio di Chiamari. Non proprio una partita da tramandare ai posteri. Finisce 0-0 il secondo stagionale dopo quello di fine settembre conquistato a Cremona. Il DS Luca Leone. Una partita strana secondo me magari con un po' più di coraggio, un po' più di personalità secondo me la possiamo incanalare in un'altra maniera. Le chiacchiere se le porta per il mento. Possiamo parlare quando vogliamo poi bisogna andare in campo e dimostrare che dobbiamo entrare nelle prime otto quindi per arrivare tra le prime otto c'è bisogno di qualcosa in più da fare in campo. Indiscrezioni della vigilia confermate dal primo minuto Ugo Campagnaro. Novità sostanziale panchina per Gravion. Nell'entella schierata secondo i canoni del 3-5-2 Aramu preferito a De Luca affianca in attacco la Mantia. Match da subito molto fisico. Liguri pericolosi con Mattia Aramu. Sinistro Fiorillo è attento. Risponde Brugman su calcio franco. Posizione invitante pallone alto di un soffio. Finale di frazione più vivace. Sugli sviluppi di una rimessa laterale sponda di la Mantia e inserimento di Crimi che calcia mirando all'angolino basso. Bravissimo Fiorillo. Versante opposto Brugman dentro splendidamente per Yamga che arma il destro. Provvidenziale la scivolata di Cremonesi. Allo scadere da Mancuso a Carraro gran sinistro da fuori a lambire il montante. Ripresa Aramu dai 25 metri su calcio di punizione sempre vigile Fiorillo. Al nono limpido chance per i biancazzurri Carraro illumina tutto solo Yamga buca di testa in modo clamoroso. Diciannovesimo la Mantia apparecchia per il mancino di Mattia Aramu classe 95 Scuola Toro. Fiorillo non si fa sorprendere. Una parata oggettivamente difficile. Subito dopo altro piazzato del solito Aramu incrocio scheggiato. Nella ripresa meglio Lentella ma recriminare purtroppo senza immagini e la Pescara in pieno recupero rigore solare su Bunino subentrato a Pettinari. Fallo di la Mantia. Rapuano di Rimini lascia proseguire tra le motivatissime rimostranze biancazzurre. Finisce così 0 a 0. La squadra si difende meglio ma fa una fatica enorme a trovare la via del gol. Appena due nelle ultime cinque partite. La coperta resta sempre corta. Pettinari a digiuno da otto gare. In generale manca la qualità. Esagerato insomma pretendere da questo organico molto di più. Questa è la sintesi. Da adesso ci saranno nei prossimi quattro partite altrettanti scontri diretti. Sabato Pescara-Cremonese, sabato 24 febbraio. Poi ci sarà il turno infrasettimanale in Serie B. Dunque martedì 27 febbraio alle 20.30 di fronte Pescara e Carpi. Dunque due scontri casalinghi nel breve volgere di tre giorni. Poi trasferta di Cittadella e di nuovo in casa la settimana successiva contro il Parma. Dunque tre scontri diretti su quattro in casa nelle prossime quattro partite. Più o meno si deciderà o meglio capiremo di più e in modo particolare più chiaramente le reali potenzialità della squadra di Zeeman nel prossimo mese di campionato. Chiudiamo ricordando il posticipo nella campionato di Serie C. Girone B, quello nel quale è incluso il Teramo che ieri ha pareggiato 1-1 a Salò. Un punto preziosissimo sul piano del morale anche perché ottenuto in dieci uomini. Espulsione davvero inspiegabile, assurda di Baras. Salò in vantaggio, un vantaggio viziato da un fallo subito, evidente, subito dai lari. Il gol di guerra, 14 centri in questa stagione. E poi in dieci uomini, malgrado l'1-0 per la Feralpi-Salò, il Teramo è riuscito a equilibrare le sorti del match nel finale. Con Fratangelo una grande azione, un grande spunto sulla fascia. Entrato in area, palla in mezzo. C'è stata la deviazione comunque sfortunata di Martin, ex difensore del Pescara stagione 2011-2012. Dunque 1-1 del Teramo a Salò. Oggi nel posticipo il Gubbio è stato sconfitto in casa dal Pordenone del neotecnico Rossetto, che in settimana ha sostituito l'esonerato Leonardo Colucci. Gubbio 2, Pordenone 3, Pordenone in vantaggio con Ciurria. Poi Malaccari e Marchi hanno capovolto momentaneamente le sorti della partita. Ma nel finale, al 68esimo, al 70esimo, altre due reti del Pordenone, la firma di Nocciolini, ex Parma e di Formiconi. Le 18.7 minuti è tutto per Terzo Tempo Live. Grazie a Roberto Cherchi in regia a voi per l'attenzione. Ancora una buona domenica.